Ciao a tutti, è Showtime! Allora siamo qui oggi per farvi vedere un video, cioè fare un video fuori di strada Lo so che sembra annoioso ma non lo è perché io sto qui con il mio bellissimo fake Adesso vi farò vedere Un attimo, un attimo, due secondi, lo vado a prendere Questo è un fake, lo devorate in modo carattere Scusate, faccio faccio vedere molti, quindi non è questo E questo è un video, è un video E Melissa ha un sacco paura di mafia Melissa sta tenendo il tablet, Melissa si sta ammazzando Ehi, cacchio Aia, aia le gambe, Asia Asia mi sta... Aaaaaaaah! Non prendi la tua posizione, mi sono scelta Scusate! Non riesco! Per me, non riesco a scelta, perchéafì. Aiaaah! Oh, guarda! Ma testa è schiacciata con questa stella non potete immaginare il mare che sto trovando come potete vedere la mia piccata partendo sta proprio partendo mi piace il vento adesso ci sarà una capire si, 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 si... ora è una capire si esporta! in tutto il mondo Non è Don Bini, mi fai male. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no I never touch